Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento. Conosciamo il dormitorio dei fratini per portarci verso la sala San Francesco e continuare il nostro percorso come i tanti pellegrini che giungono qui ogni giorno. Perché spesso vi abbiamo raccontato che Padre Pio era una persona molto dolce, era una persona di compagnia. Bisogna sfatare questo racconto, questi racconti che vanno ad evidenziare esclusivamente il Padre Pio Burbero. No, Padre Pio era una persona dolcissima. Padre Pio amava anche scherzare con i suoi confratelli. Un episodio accaduto proprio nella cella numero uno con i frati Cappuccini, i suoi confratelli. Ce lo racconta proprio Padre Marcellino senza Niro. Si intratteneva volentieri, racconta Padre Marcellino, con noi. E prima di mettersi a letto si congedeva anche un momento di sollievo al termine della giornata, sempre faticosa per lui. Erano gli anni in cui l'assistente era padre Eusebio. Che fece una battuta, ecco, quasi imbarazzante, quasi a spiazzare quel momento di serenità. Cosa disse Padre Eusebio? Sempre con la sua vena provocatoria. Padre spirituale, voi tutte le volte che accade qualcosa e che una persona vi ringrazia per aver ottenuto qualche cosa dal cielo tramite le vostre preghiere, vi affrettate a dire che c'entro io? Ringraziate la Madonna, ringraziate il Signore e altre cose del genere. Ma si può sapere, disse Padre Eusebio, se voi qualche volta avete veramente fatto qualcosa, ad esempio qualche miracoluccio? Padre Piero non si aspettava una domanda del genere e non voleva con una risposta evasiva anche andare a turbare, bruscamente, quell'atmosfera di giovialità che si era andata a creare. Però stette un po' di silenzio, stette un po' in silenzio e poi quasi imbarazzato disse Ma mi sembra che una volta ci è scappato un miracolo. E quindi raccontò in modo piacevole quello che era accaduto, cioè che lui ogni primo venerdì del mese portava la comunione ad una ammalata. Una volta dopo aver fatto insieme il ringraziamento, questa ammalata disse, vado sul virgolettato, Padre quando venite la prossima volta mi dovete portare qualcosa che è stato sulla vostra mensa, che me la voglio mangiare per guarire. Allora Padre Pio, raccontando ai confratelli, disse Immaginate voi se io potevo fare caso a quello che mi chiedeva questa povera ammalata. Così siamo andati avanti per mesi, lei sempre a fare la stessa richiesta e io a non curarmene. Però un giorno al refettorio, dopo aver mangiato nell'andare a riporre tutte le cose nel cassetto, ho trovato e ho notato all'interno del mio cassetto che c'era un pezzo di propato. Essendo alla vigilia del primo venerdì mi sono detto, allora domani glielo porto. Vediamo come fa a metterci i denti la povera ammalata e a mangiare il propato. Il propato è un dolce tipico del posto ma abbastanza duro, un dolce che viene fatto e realizzato nelle occasioni di festa. Sono andato e dopo la comunione che gli ho dato, dice Padre Pio, gli faccio questo dono. Ecco, il propato. Padre Pio raccontando, sorridendo ai suoi confratelli nella cella numero uno, gli disse Ci credete? Al primo venerdì successivo mi sono visto la donna che è venuta direttamente ad aprirmi la porta e mi ha detto, Padre Pio, sono guarita, Padre Pio, sono guarita. Il prossimo venerdì vengo io direttamente in chiesa a fare la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Padre Pio fa una piccola pausa raccontando questo ai suoi confratelli. Come a rimettere le cose a posto, scrive Padre Marcellino, e aggiunse Avete capito che scherzi fa la fede della povera gente?